Nunzia de Girolamo dal 10 ottobre condurrà un nuovo programma su Rai 3, Avanti Popolo. Si parlerà di politica e di tanto altro. Prenderà il posto di Bianca Berlinguer e si ispirerà a Gianfranco Funari, che sapeva far parlare il pubblico. La conduttrice ha detto che oggi non c'è luogo di dibattito, lei lo rifarà in tv.